Lafayette! Ehi, Lafayette! Lafayette! Che vuoi? Sono qui! Ascolta, la ruota è in avvicinamento. Ah, Napoleone, abbiamo già morso sei pneumatici oggi. In seguito quattro auto, una bicicletta e uno scooter. Ah, chiudi il becco. È una motocicletta. Due cilindri, trazione a catena, una ruota che cigola. Quella davanti è quel che sento. Dunque, tu attacchi i pneumatici, mentre io mi occupo della parte che sta sulla sella. Ma come mai ti prendi sempre la parte più tenera a te? Perché sono tuo superiore, ecco il perché. E adesso smettila di mugugnare e suona l'attacco. Ma no, quello è marca visita. Meglio essere prudenti. Potrei degradarti, lo sai? Va bene. All'attacco! Un momento, il capo sono io, sono io, che dico quando si attacca. All'attacco! Carica!